Sessore, ancora un intervento dell'amministrazione comunale di Pescara nei confronti delle famiglie bisognose della città? Ancora fondi a disposizione? Sì, sono 410 mila euro totali, un importante aiuto che noi diamo alle famiglie pescaresi. Ricordiamo che sono quattro linee di intervento che abbiamo spiegato oggi nel corso della conferenza stampa, con cui vogliamo dare delle risposte importanti. Il comune c'è, è vicino alle cittadini pescaresi e alle sue famiglie e con questo siamo convinti che potremo dare anche una boccata di ossigeno, anche nella fase pandemica, aiutando concretamente i nostri concittadini. Non ci scordiamo, poiché è anche un aiuto diretto nei confronti delle attività commerciali, perché sono 410 mila euro di risorse che poi andranno a dare un supporto a tutte le attività che li evitano intorno ai servizi alle famiglie. Questo provvedimento segue l'apertura, l'inaugurazione oltre a un mese fa dell'emporio di Via Gran Sasso? Sì, è qualcosa che segue, come dicevi tu, quell'altra linea di intervento. Sono veramente tante tutte le linee che noi abbiamo posto in essere in questo momento, perché ci rendiamo conto che le famiglie soffrono, sono in difficoltà e dobbiamo dare delle risposte concrete. Questa è ancora un'altra risposta concreta, come era quella che dicevi te, che vede all'interno dell'emporio di Via Gran Sasso 400 famiglie che provvedono ad andare a chiedere aiuto ogni mensilmente e gli vengono consegnati i pacchi.